Super Mega Record, 19.050 punti. Non so, ma l'altra volta avevo fatto 19.002 punti, ovvero 99,8 secondi. Ma questa volta ho fatto 95 secondi. Ho migliorato di molto il mio record. Comunque, tra un po' arrivavo al record di CIS 247, ovvero quello che ha fatto 19.058 punti. Mancano solo 8 punti, ma secondo me non so se cerco di migliorare, perché è difficilissimo da battere. Ciao!